Buon pomeriggio da Trip TV, siamo arrivati al venerdì che è l'ultimo giorno della settimana per i nostri notiziari, poi arriva il sabato e la domenica con tutto lo sport, che abbiamo in pentola, è ancora in corso, un consiglio comunale alla mezza tra una minestra riscaldata è una pasticca di sonnifero, nonostante i temi molto importanti ci si è dilungati sul discorso di cosa dire e cosa chiedere all'Enel, cercando poi alla fine di fare un documento congiunto, si è arrivati alla conclusione di fare un documento congiunto ritenuto da tutti necessario per andare a chiedere incontri o al Ministero o all'Enel, resta il fatto che però le posizioni rimangono sempre distanti, c'è chi recrimina ancora il passato da parte dei 5 Stelle, dall'altra parte si recrimina sulla dilazione totale a titolo gratuito dei 300 milioni dell'eolico, resta il fatto che il carbone inquina, lo sanno tutti, e che il 2025 a livello nazionale dicono che l'Italia uscirà dal carbone, su Civitecchia invece incombono nubi veramente nere per quanto riguarda questo futuro perché non ha sascritto da nessuna parte che sia quella la data, anzi vorrebbero mantenere Civitecchia come riserva, ne nasce quindi tutta una disquisizione tecnico-tattica su come, quando e perché, resta il fatto che c'è questo problema e verrà discusso da un'amministrazione ormai alla fine della legislatura e infatti l'accusa più grave è quella che avete fatto in questi 5 anni a parte a chiedere il prestito e restituire i sordi all'Enel, questo è quello che è uscito fuori. Poi che altro c'è? C'è che si affilano al discorso politico, domani c'è la presentazione ufficiale della candidatura di Massimiliano Grasso da parte di Fratelli d'Italia, c'è tra le righe l'entrata anche nella sfera liste civiche quella del polo civico e del polo democratico, perché oggi ci è arrivato un documento congiunto di queste due liste, cioè Mecozzi, degli ex socialisti che adesso fanno capo a Campidonico e la mail veniva da fonti di Massimiliano Grasso, quindi si presume che ci siano accorti, abbiamo visto parlare altre liste civiche che tenderanno credo a coagularsi insieme a Grasso, dall'altra parte si aspetta per la settimana prossima la presentazione del candidato Lega, Forza Italia e Udc e sempre per la settimana prossima tenete presente che ci sono le primarie del PD in tutte le città italiane, quindi quella sarà l'occasione per saperne di più per quanto riguarda il PD cittadino, c'è la lista che farà capo al dottor Tarantino. Detto questo è chiaro che diventa un problema nel problema, capirci di più, rimane Petrelli da una parte, rimane Causa Pound dall'altra e probabilmente ci saranno altri che tenderanno a presentarsi come candidato sindaco o si accorperanno, che sarebbe la soluzione migliore, per presentarsi più uniti possibili per quel che si può. La stessa cosa non si sa nulla della seconda lista o prima lista dei 5 Stelle perché la parte dissidente Palmieri, Barbani e Pantanelli ancora non ha chiarito se staranno allineati e coperti, se saranno obbligati, se lo vorranno fare, se invece saranno loro i proponenti la vera lista dei 5 Stelle, ancora non è dato saperlo, ma sapete che siamo a Cevitavecchia e per cui vale tutto il contrario di tutto fino all'ultimo momento. L'ultimo momento che è a fine aprile perché si presentano circa un mese prima dalle elezioni delle liste ufficiali. Si prevedono più di 5-6 sindaci e si prevedono ovviamente almeno un esercito di 750 candidati a consiglieri. Quindi un vero e proprio esercito. Nel frattempo la città impazzano i lavori e le potature allo Stato brato, cioè si fa tutto insieme di corsa perché ovviamente 5 anni non sono bastati per mettere a punto queste cose o se ne è voluto risparmiare per fare i lavori solo alla fine. Tutto questo lavorio, questo fare è nel più muro e mero Stato di prima Repubblica, cioè quando le cose andavano fatte solo quando c'erano le elezioni. Quindi i diversi, cioè i 5 Stelle, stanno rifacendo la stessa cosa di chi l'ha preceduti in tanti anni, in tanti passati. Quindi di diverso non c'è nulla, quindi siamo tornati in pratica alla mera politica di scambio del buon Achille Lauro che dava una scarpa alla testa e poi si teneva alla sinistra per capire se hanno votato o per poter gliela dare. Qui siamo più o meno alla stessa situazione. Addirittura nel Consiglio oggi, forse alla fine perché ovviamente l'argomento è scottante nel vero senso della parola, si parlerà di crematorio, i comitati, i proponenti dicono si ascolti il parere dei tecnici del Comune. Alcuni consiglieri sembra che abbiano detto ormai il forno c'è per cui ve lo tenete, dall'altra parte dicono se non lo spegnete subito succederà al 48. Resta comunque questa la situazione. Da tutta Italia vengono a cremare i propri cari a Civitavecchia, ovviamente c'è una società privata che ha fatto degli investimenti, se non lo potrà più fare chiederà i danni a qualcuno e dovrà chiedergli ai 15 consiglieri dei 5 Stelle, o più o meno quelli che hanno votato a favore di questa ignobile cosa che è stata anche l'unica vera e propria delibera fatta ad hoc per questa cosa a agosto del 2014, cioè due mesi dall'insediamento. Poi che cosa altro c'è? I rapporti col porto, c'è la querella Ape Calesse che sembra che hanno fatto gli installi, hanno preparato tutto ma non possono sapere come immatricolarla perché l'Ape Calesse deve essere gestita o da NNCC o da una linea urbana. Che cosa fa l'Ape Calesse? Secondo gli intendimenti dell'assessore Tantò dovrebbe fare una linea comunale, una linea urbana, quindi non può essere classificato NNCC. C'è tutto un bailam nato da questo desiderio dell'assessore Tantò di ritornare a Ischia anni 60 dove lì era giustificato dal fatto che le strade, cioè gli apetti, servono perché le strade sono talmente piccole, si passa in due, anche se a dire il vero io ho visto passare due pullman, uno di fronte a un altro con molta preoccupazione per i passeggeri, ma con una tranquillità serena da parte dei due autisti, uno di qua e uno di là. Poi la parte diciamo della Lega Forza Italia UDC se ne parlerà per la settimana prossima, per quanto riguarda la settimana prossima è anche quella dei lunghi coltelli o dei lunghi bidoni. Parlo della differenziata che teoricamente il 28, che è un giovedì, dovrebbe partire per la zona 1 di Civitavecchia. Non vi dico il bailam che c'è per tutta la città con questi secchioni abbandonati in mezzo a una strada da condomini commercianti e privati, si aggiungeranno poi i privati, quelli piccolini che andranno messi da sera e io credo che siano merce pubblica e abbastanza ricercata da parte dei cosiddetti vandali, perché non esiste dove mettere i cassonetti ci siano le telecamere, io non so quello che potrà mai succedere, di sicuro succederà perché almeno per i primi tempi e perché finché la città non sarà completamente in raccolta differenziata accadrà quello che è già accaduto da tantissime altre parti d'Italia, si esce col sacchetto da casa anziché buttarlo nel cassonetto sotto casa si andrà nelle zone dove ancora ci sono a depositare l'immondizia. Questo è quanto riguarda la parte sociopolitica, per quanto riguarda lo sport, la pallannuoto ospita domani il Bologna per l'ultima giornata di andata, il giorno di andata, arriva a Bologna, c'è il Presidente Bologna, quindi menù a base di Tortellini, ti togliamo nel nostro settimanale, Civitavecchia va nella nuova Florida per capire se la trasferta sarà a Florida o meno, quindi è la seconda forza del campionato, Civitavecchia che ovviamente deve dare continuità alla sua classifica, nel campo di promozione c'è il big match a Tolfa, arriva ai Monti Cimini e poi vediamo che altro c'è, al Tamagnini contro la CPC ci sarà il Monte Fiascone. Detto questo, poi Santa Marella giocherà ovviamente ai fatti suoi, poi nel basket, dopo tre vittorie consecutive, i rossoneri di Tastema vanno in casa della Petriana, cioè la funzione di Papalini. Il rugby è fermo, ma no perché non vince, non perde semplicemente perché c'è la nazionale italiana, lì c'è la buona abitudine di sospendere tutti i campionati per permettere di andare a vedere la partita anche ai giocatori, la pallavolo di C per la Sartoraria e l'Iva, la Virtus Latina e il derby avversario anche per la Margutta e poi via via le altre situazioni sportive. Con questo è tutto, appuntamento a lunedì con le ultimissime. Nel frattempo ricordiamo che c'è la sfilata di Carnevale sia a Tolfa che a Civitavecchia, quindi attenzione ai rivieti, attenzione ai parcheggi. Appuntamento a lunedì.